di questo campionato, eccolo qui, grazie alla regia, il bacio di Ibi prima di cercare il canestro verso la curva avversaria, un gesto chiaramente provocatore che farà parlare molto, credo dopo questa partita verranno spesi fiumi di inchiostro per questo gesto poi a seconda anche di come va a finire, rischia di passare alla storia davvero comunque un derby bellissimo grazie